Grazie 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 e benedetto è il frutto del coseno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso che gloria della nostra morte, amore. Iniziamo a camminare, le bandiere iniziano a camminare, le bandiere iniziano a camminare, le bandiere iniziano a camminare, Grazie a tutti. 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 Tu sei benedetto. a tutti. Grazie a tutti. 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 e benedetto. a tutti. 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 che. a tutti. 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 tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. sotto. a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. 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 a tutti. 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 . 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 Preghiamo. . . . . L'intera comunità diocesana si unisce a questo suo ringraziamento per tutti i benefici con i quali il Signore ha arricchito questi 20 anni di esperienza di episcopato. Lei quando è stato consacrato vescovo era uno dei più giovani vescovi d'Italia, che è probabilmente il più giovane vescovo d'Italia, ha vissuto questa grande esperienza dell'episcopato come vescovo d'ossiliare a Firenze, città ricca di cultura con una grande tradizione di vita ecclesiale, città ricca di impegno calitativo, città che ha visto anche la presenza di tante e tante figure del Cattolicesimo che hanno illustrato la vita della Chiesa italiana. Poi andando vescovo a Castellaneta ha conosciuto l'esperienza del sud Italia, esperienza certamente diversa da quella della diocesi di Firenze, ma penso non meno entusiasmante e non meno ricca di stimoli. Come lengo nella nostra diocesi ha conosciuto un mondo di fedeli che sono veramente ricchi di devozione, ricchi di amore verso il Signore, verso la Santissima Vergine, una diocesi ricca di sacerdoti con tante e tante esperienze, anche tante belle presenze nel mondo della carità e tante ricche esperienze di solidarietà umana ed ecclesiale. Ecco noi abbiamo potuto apprezzare questa sua presenza, io che sono il suo più stretto collaboratore, posso ancora veramente affermare di avere giurito della sua persona, di avere giurito di questa sua capacità di accoglienza, di ascolto anche delle persone più vivi, di questa sua passione per il bene dei fedeli, di questo suo desiderio pian piano di conoscere anche ogni angolo della nostra diocesi, ogni realtà ecclesiale, ma tutte le persone, tutti i volti, come avete detto nell'Omeria, che arricchiscono questa nostra esperienza umana, sociale ed ecclesiale. Ecco noi abbiamo bisogno della sua vita, abbiamo bisogno della sua paternità, abbiamo bisogno del suo amore, abbiamo bisogno che lei ci indichi e ci eviti, soprattutto chi di noi è inserito nel mondo della vita parrocchiale, a costruire, come ha detto nell'Omeria, delle vere comunità cristiane, delle comunità cristiane, dove si viva nella lode di Dio, dove si viva nel perdono reciproco dell'amore di Gesù crocifisso, dove si vive nella semplicità del cuore, come la santa famiglia di Nazareth. E quindi ecco, mentre ci uniamo a questo vostro campo veramente di ringraziamento al Signore per questo immenso dono che ha fatto la nostra vita sacerdotale, di arricchirla con la consacrazione episcopale, quindi con questo ministero con cui sente la sollecitudine veramente di tutta la Chiesa, e con lei chiediamo di seguirci con amore sempre più grande, perché possiamo nel nostro sacerdotio dare sempre più quei frutti di santità, quei frutti di conversione che il mondo attende dal nostro ministero. E ora affidiamoci davvero all'intercessione. Benvenuti, benvenuti a tutti, carissimi pellegrini, in questo luogo sacro dedicato a Maria Santissima delle Grazie. Benvenuto a lei, Sua Eccellenza, Monsignor Claudio Maniago, al cinesco metropolitino della Dioce di Catanzaro Squillace. A lei, a noni mio di tutta la missione comunale, ti volgo un immenso grazie per tutto quello che sta facendo per la nostra Chiesa, per il nostro santuario, per la nostra comunità, ma in generale per tutte le comunità sotto la Dioce di Catanzaro Squillace. E' un grande auguro di cuore per i suoi venti anni di autoscopato, proprio oggi qui a Torre di Rigelo. Grazie davvero a tutti, benvenuti a tutti i sacerdoti, a tutti i miei colleghi sindaci e amministratori, all'onorevole Ernesto Lecci, consigliere regionale, al vicepresidente della provincia Francesco Fragomele, nella provincia di Catanzaro e al consigliere della provincia di Vico Varenza di Tocco Pruccio. Grazie a tutte le autorità militari, l'arma dei carabinieri, con la presenza del maresciallo Alfredo Maggio, comandante della stazione di Cardinale, e di tutti i corpi di polizia degli enti locali. Grazie anche a tutte le associazioni di volontariato che in questi giorni sono sul nostro territorio. Suo eccellenza, ci ritroviamo qua come ogni anno a venerare la Vergine Santissima, a pregarla, a chiedere le grazie, ad esprimere il desiderio di noi che ha nel cuore. Io sono certo di ognuno di noi, nessun escluso ha bisogno della Vergine Santissima, del supporto della Vergine Santissima. Noi ci rivolgiamo sempre a lei, ma ci rivolgiamo a lei anche nei momenti particolari, in quei momenti di buio, di tristezza, in quei momenti dove siamo convinti di non farcela, di non farcela fare le cose buone per la nostra comunità, per la nostra gente, per la nostra famiglia. Rivolgendici a lei vediamo la luce e quindi poi tutti vanno per il resto giusto. E la dimostrazione che tutto questo è vero è la presenza di tutti noi ogni anno qua negli anni, nei secoli. Io a un mio avviso, questo a un mio avviso, questo è uno dei miracoli che la Madonna delle Grazie ha fatto. Cioè è quello di far venire tutto l'anno, in questi giorni, in migliaia di persone anche a piedi nei paesi vicini. Ed è per me qualcosa di straordinario. E noi torresi siamo straordinariamente felici che la Madonna abbia scelto questo posto per dedugere, perché tutto questo possa accadere. Quindi, infine, finisco ringraziando Don Orazio, direttore del Santuario, con tutto il suo Consiglio di Amministrazione. E saluto di tutti i torresi, la comunità torrese residente, quella che è stata da tutto il mondo, di tutti gli emigrati che oggi sono qua perché hanno voluto stare vicino alla Vergine Santissima. Grazie davvero di cuore e buona festa della Madonna delle Grazie a tutti. Eccellenza, i ringraziamenti sono stati fatti già da parte di tutti, quindi non aggiungo nulla di più rispetto a quello che è stato detto. La ringrazio a nome personale, al nome del Consiglio di Amministrazione e a nome dei pellegrini e quindi per le belle parole che ci ha consegnato nell'Omedia, c'è quell'espressione che ha detto che penso sia la gioia più grande che un sacerdote possa dire e ancora di più un vescovo. Voi siete il senso della mia vita. Quindi, e con queste parole che a nome personale, a nome del Consiglio di Amministrazione, a nome delle autorità civili, militari, dei volontari, dei pellegrini, auguriamo di cuore a lei buon anniversario. Sono 39 di sacerdote e 20 di episcopate. In questi 39, 20 sono di episcopate. Ed è bello in questo tempo e può riconoscere che c'è un senso per la propria vita, nella propria vita. Certo, il senso è il Signore che le permette e le dà la forza di essere sempre di più segno e testimonianza dell'amore di Dio. Ma è bello sentiersi dire queste parole. Voi siete un senso. Immaginate tutti quanti noi ritornando a casa, alle nostre attività, a quello che facciamo, alle amministrazioni, e per riportare questo pensiero. Il Vescovo ci ha detto che noi siamo il senso della sua vita. Tutto quello che amministriamo ha più stateramente un valore diverso e un valore più profondo perché non amministriamo e non facciamo qualcosa di personale, ma amministriamo e facciamo qualcosa di pubblico. Grazie, eccellenza. La nostra preghiera alla Vergine Maria è perché il suo senso possa crescere sempre di più. e paulino. Adesso ci affidiamo davvero all'intercessione di Maria Santissima delle grazie. lo facciamo dopo aver giurito ed essendoci stupiti una volta di più dell'amore di Dio che nella celebrazione eucaristica riversa su di noi davvero i doni della sua amore. Vogliamo che Maria Santissima ci aiuti a custodire tutto questo e poi a finirlo. O tesoro dei torresi, Vergine Santissima delle grazie, tu in questi tempi di poca fede e di empietà trionfante hai voluto rinnovare il tuo seggio di regina e di madre, dovevi, consiglio l'acculto, da remotissimi tempi generata, e riedificato il tuo tempio sopra gli antichi ruderi con la ricomparsa della fonte prodigiosa, dimostrando così la tua particolare protezione per i tuoi diretti figli di Torre di Ruggero e per tutti quelli che con viva fede vengono qui avvenerati. Tu, come madre amorosissima, con le tue acque salutari, spargi dappertutto i tesori delle tue celesti misericordie. Deo Maria, da questo luogo da te prescelto rivolgi anche su di me gli occhi tuoi benigni e davi pietà di me che ho tanto bisogno del tuo soccorso. Mostrati anche a me come a tanti i tuoi devoti ti sei dimostrata vera madre di misericordia. Impetra nel tuo divinfiglio la grazia che io ti domando, mentre con tutto il cuore ti saluto e ti invoco, madre mia tenerissima, sovrana, tesoriera e dispensatrice delle divine grazie. Amo. L'anima mia magnifica il Signore è il mio spirito e sul tendio mio salvatore perché ha mandato l'umiltà nella sua selva ora e poi tutte le generazioni mi chiameranno beata grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazioni, di generazioni, la sua misericordia si sente su quelli che non devono ha spiegato la potenza del suo braccio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore ha annunciato i potenti dai toni ha incalzato gli uomini ha ricolmato di beni affamati ha rimandato e ricchia mani vuote come aveva promesso ai nostri padri ad Abramo e la sua discendenza per sempre l'anima mia magnifica il Signore è il mio spirito e sul tendio mio salvatore gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come ai principi ora e sempre nei secoli dei secoli amè Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito finate il capo per ricevere la benedizione e ad ogni invocazione rispondete amè Dio misericordioso che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redentito il mondo vi colmi della sua benedizione Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria Vergine in Madre che ha dato al mondo l'autore della vita A tutti voi che celebrate con fede la festa di Maria Santissima delle grazie conceda al Signore la salute del corpo e la gioia dello Spirito e la benedizione di Dio Onipotente Padre Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre amè Glorificate il Signore con la vostra vita andate in pace Alleluia Alleluia Oggi e sempre viva Maria e 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 viva Maria non ritorno, non ritorno, non penso a te. E viva Maria, Maria, e viva Maria, e viva Maria, e viva Maria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Accogliamo la Madonna con un applauso. Grazie a tutti. Accogliamo la Madonna con un applauso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.